Ciao, io sono Tommaso, ho frequentato la Università di Alex Theory e sono qui per dirti se ne vale la pena. Apro questo video così come ho aperto il video su InfoBeats di Thomas Macarig, cioè chiedendomi ma Tommaso tu chi sei per dire se vale effettivamente la pena frequentare questo corso oppure no? E anche in questo caso la risposta rimane la stessa, cioè nessuno, sono un tizio random sull'internet, ma assolutamente questo non vuol dire che dobbiate fidarvi. Tutto quello che dico in questo video è assolutamente da un punto di vista personale, non ha nulla a che vedere con i miei datori di lavoro, per chi volesse il mio CV è disponibile su LinkedIn, rispondo anche volentieri a domande di questo tipo. L'unica cosa che mi sento di menzionare è che da ormai 6-7 anni lavoro con startup, più o meno sempre in ambito marketing, growth, ne ho viste di tutti i tipi, da impiegato a founder a consulente, da startup che ho fondato io da zero e che hanno dovuto fare fundraising a aziende che invece erano già unicorn e oltre, quindi penso di avere una buona prospettiva sui diversi stage di crescita, però direi che le mie referenze possono fermarsi qui. Ho approcciato questo corso con gli occhi di una persona magari novizia che vuole avvicinarsi al mondo dell'online, del marketing, dell'imprenditoria e cerco di darvi un po' le mie sensazioni. Do anche un po' di contesto per chi ama un po' il retroscena dell'infobusiness e per chi come me in realtà non conosce bene la figura di Alex Theory. Io non uso TikTok e da sei anni vivo in Portogallo, quindi avevo sentito parlare di questa figura mistica Alex Theory che vendeva gallette, ma insomma non ho mai approfondito più di tanto. Ho scoperto meglio questa figura di recente, quando c'è stato appunto questo lancio nel mondo dell'infobusiness da parte di Alex Theory e il suo socio Frank. In particolare la cosa che ha catturato l'attenzione di tanti è stato questo dissing con Big Luca. Big Luca è altro formatore storico, c'è anche una reaction su questo canale in cui insieme a Mr. Rip andiamo a rispondere, tra virgolette, a un video di Big Luca in cui parla di startup dicendo cose secondo me poco chiare. E questo scontro ha generato un sacco di rumore, infatti Big Luca ha addirittura pubblicato delle vecchie registrazioni di consulenze che loro hanno fatto ad Alex e Frank Theory un anno fa, due anni fa se non sbaglio, cosa tra l'altro secondo me assurda, cioè fossi un cliente di una persona che dopo due anni ripubblica online, comunque con un pubblico vasto, la consulenza che abbiamo fatto in privato mi sentirei veramente tradito, insomma adesso non so che accordi avessero tra di loro, se magari hanno firmato qualche liberatoria per dire che Big Luca avrebbe potuto da un momento all'altro ripubblicare online la consulenza, ma anche dal punto di vista di futuri clienti di Big Luca rimarranno sempre con questo punto di domanda, cioè questo magari ha i video registrati della mia consulenza che non voglio siano pubblicati, tipo rimango con la pistola alla tempia fino alla fine dei miei giorni, sapendo che puoi ripubblicarla, non lo so, comunque uscendo da questo tema mi limito a dire che questi video sono stati rilasciati in seguito a altre live che erano state fatte proprio da Alex e Frank Theory, attaccando un po' alcune mosse che erano state fatte da Big Luca, alcuni prodotti e corsi che erano stati lanciati, in generale tutta la comunicazione della Theory University era molto incentrata sul arriviamo noi nel mondo dell'informazione, togliamo il business a questi fuffaguru, quindi chiaramente questo ha catturato molto l'attenzione, e devo dire che quantomeno in questo mondo stagnante dell'info business è stata un po' una ventata di era fresca, è cambiato un po' il modo di comunicare, c'è stato un po' di novità, alcune cose sicuramente non stavano funzionando in quel tipo di business model, ne parlo forse nel video anche proprio di recensione su Thomas Maghering, ma se non sbaglio anche in un altro specifico, quindi tutto sommato per usare i termini dei nostri amati guru da un punto di vista di posizionamento, diciamo ho più apprezzato che non questa scelta di comunicazione della Theory University, cosa che mi ha incuriosito e mi ha spinto quindi a guardare anche un po' di live, live in cui loro fondamentalmente rispondono a delle domande dei loro studenti, rispondono in diretta, fanno sapere un po' la loro opinione, danno dei consigli, guardando queste live mi sono reso conto che comunque il livello di discussione era sicuramente diverso rispetto a quello che si trovava in altre live di altri guru. Adesso ne abbiamo anche la riprova concreta, perché sul canale di Big Luca ci sono delle live con un formato molto simile, le male lingue diranno che è stato copiato, adesso non so se sia effettivamente così, o se magari era qualcosa che avevano già in mente di fare, fatto sta che il tempismo in questo caso non ha aiutato Big Luca e Caloni, perché insomma stanno ricevendo molte critiche per questa mossa, almeno negli ambienti che frequento io, il fatto sta che contrapponendosi un po' a questa visione del mondo dei guru, del fare profitto il più possibile, arricchirsi come imprenditore, la visione e i punti di vista di Alex Theory spiccano un po'. L'approccio spesso consigliato in queste live infatti è quello di costruirsi delle skill per chi non ha delle skill, poi costruire degli asset e poi reinvestire per costruire altri asset, per poi fondamentalmente creare un'azienda ricca, ancora prima di creare un imprenditore ricco e di pensare semplicemente al profitto dell'imprenditore. Sicuramente una visione di business un po' più vicina alla mia, questo non vuol dire poi rimanere poveracci nel caso in cui le cose vadano bene, semplicemente vuol dire mettere davanti l'idea di costruire un business utile, interessante, all'idea di arricchirsi e basta come persona. Poi chiaro, quando queste cose vengono fatte bene, vanno di mano in mano, ben venga, potremmo dire il capitalismo che vorrei. Comunque, passando proprio al corso, io mi approccio a questo personaggio che di base mi stava anche un po' antipatico perché ricordo che all'epoca quando scopri l'esistenza di queste gallette vedi alcune recensioni abbastanza negative, l'idea mi sembrava strana, questa cosa di vendere le gallette online non capivo molto in senso, sinceramente, visto la difficoltà logistica e tutti i problemi che ne conseguono, il tipo di alimento, però dico, sai che c'è, è da tanto che non faccio una recensione su corsi di guru, corsi di formazione, questa potrebbe essere una buona opportunità. Quindi con un po' di diffidenza scarico l'app e il primo step è quello di fare i due percorsi gratuiti, uno di business planning tenuto da Alex Theory e l'altro di marketing tenuto da Frank Theory. Entrambi i corsi durano circa otto ore, otto lezioni più o meno e devo dire che non sono male, questo è, diciamo, come tagline della mia recensione potrei dire questo. Sicuramente ho sentito un po' la mancanza di una struttura formale, per esempio nel corso di business planning ci sono degli spunti interessanti, ma non c'è nessun tipo di template o di aiuto al di fuori del video che stai guardando. Anche il video stesso ha pochissimi supporti visivi, semplicemente è Alex che parla davanti a una telecamera. Lui è un personaggio carismatico, sicuramente questo aiuta e riesce a tenerti un po' più incollato allo schermo, però ecco, cioè parlando di business planning, mettermi un foglio di Google Spreadsheets che posso copiare mi avrebbe fatto comodo, capisco non per tutto, ma almeno per 3-4 cose. Mi parla tanto di questa big idea, per la big idea magari fare un documento Word con 3-4-5 elementi centrali, insomma, sono cose abbastanza semplici che secondo me aiuterebbero anche il tasso di completamento di queste lezioni, di queste sessioni o comunque la loro utilità. Questo è un piccolo consiglio. Ora faccio un attimo una parentesi perché ho menzionato la big idea e c'è questo trauma che pensavo di aver sotterrato, ma invece no, è tornato su. Tutte le parole inglesi che vengono menzionate in questo corso sono menzionate con l'accento sbagliato, a partire da big idea, che diventa big idea, se non sbaglio, a questo punto perché non dire grande idea o big idea, non lo so, però non capisco perché l'accento in questo modo si è fatto apposta così che le persone commentano e si arrabbiano, però è una cosa che veramente non sono riuscito a sopportare, a partire da quello fino ad arrivare a management, che non si pronuncia così, lo so che in Italia l'80% delle persone lo pronuncia così, però insomma è management, ok? So che posso sembrare il gran marnazzi dell'inglese, però visto che si tratta di un corso che si vuole rivolgere a imprenditori, che vuole creare imprenditori, che molto probabilmente avranno bisogno dell'inglese per comunicare con altre persone, usiamo le pronunce corrette, altrimenti poi io vado dal collega londinese, anziché management gli dico management, lui capisce un pochettino male, pensa che vogliamo fare un manage a trois, non lo so. Parentesi chiusa, devo dire comunque il corso di business planning interessante, ci sono punti carini, che secondo me fanno vedere come effettivamente poi Alex sia una persona che un business ce l'ha, lo fa, che si occupa di cose tangibili, ecco, quindi ci sono delle riflessioni interessanti, si vede che ha studiato vari elementi, varie cose che poi ha rielaborato e ricreato in un certo senso dal suo punto di vista, quindi questo lo ritengo valido. Alcune critiche, riflessioni su questa parte del corso, a volte gli esempi vanno molto più lunghi di quello che secondo me potrebbero, però questo insomma potrebbe essere un mio bias. C'è un momento del corso in cui spiega i processi per fare le gallette all'interno della sua azienda e legge per un quarto d'ora, adesso non so se è veramente un quarto d'ora, ma veramente righe e righe e righe di tutti i processi, esempio utile, ma che secondo me si era capito già dopo i primi 3-4 esempi. Comunque in generale non è un corso molto annacquato, quindi non gliene faccio neanche troppo una colpa, magari si è fatto prendere la mano dall'entusiasmo, mi sembra anche che non abbia uno script ben preciso, quindi magari a volte divaga un po', ma non è un problema enorme. Un altro elemento che annacqua un po' ai contenuti forse e che dopo un po' ha cominciato a darmi fastidio è anche questo riferimento continuo ai full favor. Ora capisco il discorso di posizionamento che menzionavamo prima, cioè il dire, ok, siamo arrivati noi, stiamo cambiando il modo di fare le cose, però anche dentro al corso, così tante volte mi sembra un po' troppo. Cioè l'abbiamo capito, abbiamo già lasciato l'email per fare il corso gratuito, preferirei concentrarmi sui contenuti veri e propri invece che continuare a sentire il pitch di marketing, però, ok, anche qui, diciamo, non compromette la validità delle informazioni che vengono condivise. Un discorso un po' di più invece proprio sul valore dei contenuti lo faccio quando penso al tipo di visione che loro vendono. Come dicevo all'inizio, la mia visione di azienda, il modo in cui voglio fare io azienda, o comunque ho voluto farla in passato, è molto più vicino alla visione di Alex Theory che non a quella di Big Luca, che punta alla massima monetizzazione per l'imprenditore. Però rimane comunque un po' il problema guresco del one size fits all, quindi l'idea del ho un approccio che va bene per tutti. In questo caso, più che un approccio, magari una visione che va bene per tutti. Perché non è che dicono al 18enne che fa social media manager, o al 18enne che ancora fa liceo di fare la stessa cosa che dicono al 25enne o al 30enne che ha già un business avviato. Quello no. Anzi, ho apprezzato il fatto che comunque diano consigli diversi in base allo stage in cui ci si trova. Comunque consigli sensati. Però c'è un po' questa idea di questo è il mio modo di fare business e a prescindere da chi tu sia, dalla tua situazione, cerco di applicarla a te. Questo da un punto di vista di vendita, lo capisco, perché chiaramente tu vendi quel prodotto, vendi quella visione, vendi il tuo approccio. Vuoi anche targettizzare, in un certo senso, un tipo di persona per cui quell'approccio va bene. Però ci sono due punti. Il primo è che ormai Alex è anche un influencer, quindi non solo lui va a pescare quelle persone che rientrano nel target di persona che vuole diventare imprenditore, che vuole costruire un'azienda, che faccia qualcosa di interessante, di utile, qualcosa di grande. Lui va a catturare anche i ragazzini che magari la trovano una persona carismatica, forte, e che quindi poi cercano di modellare i loro obiettivi e la loro vita a quello che dice di fare lui. Diciamo, la vita da imprenditore, la vita da persona che vuole fare azienda, che vuole fare cose grandi, non è per tutti. È uno stimolo che non è in tutti. E quindi, a volte mi chiedo, se il voler, tra virgolette, forzare questa visione, un po' su le persone che chiamano, le persone che frequentano il corso, non possa essere nociva a volte, perché poi rischi di ritrovarti con ragazzi che seguono un sogno che non è il loro, sicuramente un sogno più nobile rispetto a massimizzare il profitto vendendo scam da Dubai, però ecco, comunque qualcosa che può creare problemi. Quindi questo è un primo punto che mi sento di portare avanti. Ok, voler fare qualcosa di grande, ma non deve essere necessariamente l'azienda, anzi, magari non voglio neanche fare niente di grande. Magari voglio vivere la mia vita tranquilla con famiglia, da operaio, otto ore di lavoro al giorno, poi torno a casa e va bene così. Conosco persone che sono felicissime e che fanno questo tipo di vita. Quindi questo è un primo punto. Il secondo è che, per esempio, questo, diciamo, bias di Alex Theory per un certo tipo di azienda e un certo tipo di approccio, secondo me, si denota ancora di più quando parla di startup. Ora, importante da capire che anch'io ho un bias in questo senso, perché io invece lavoro da tanti anni nell'ambito startup, ho conosciuto tanti founder che hanno raccolto fondi, io stesso ho raccolto fondi, quindi so che è un mondo che esiste, che si può fare anche in Italia, è un mondo che può funzionare e quindi mi ha fatto strano vedere che praticamente ogni volta che questo punto viene fuori, fondamentalmente lui dice lascia perdere, questa in Italia non è un'opzione, non c'è gente che ti dà i soldi, pensa a fare un business di un altro tipo, che è un po' più verso il tipo di business che conosce lui, quindi nel suo caso lui lavora benissimo con le palestre, lavora benissimo con le gallette, non si limita a quello, si vede che conosce tantissimi settori e tantissime cose diverse, però la traghiettoria verso cui spesso indirizza queste persone e anche i business case e quello che va a fare va lì, ma in realtà il mondo delle startup è anche molto vicino alla sua visione di business, è quello che ti permette di fare cose veramente enormi e nessuno dice che i fondi li devi per forza raccogliere in Italia, puoi andare benissimo a raccogliere fondi dall'estero, oppure è vero che in Italia è difficile trovare persone che ti diano vero venture capital in maniera decente, penso che sia uno dei più grandi problemi dell'ecosistema di startup italiane ed è uno dei motivi per cui è molto più piccolo di quello che non potrebbe essere, sono d'accordo al 100%, questo non vuol dire che sia impossibile trovarle queste persone, devi semplicemente essere molto più bravo degli altri o andare direttamente all'estero a cercare fondi o a cominciare la tua attività, però specie in un'epoca in cui tutto quanto è da remoto si può assolutamente fare una startup interessante di livello in Italia, ne conosco tante, sicuramente meno in proporzione rispetto a quante ne conosco per dire qui in Portogallo, però si può fare. Ora, non voglio fare il crociaro startuparo, non mi interessa dibattere sul punto, ok? Ognuno ha la sua visione, va bene così. Quello che ci tengo a fare con questo esempio è farvi capire un po' questo bias che io ho intravisto e che penso sia importante sottolineare, anche perché, a differenza di come ho fatto io prima dicendovi, guardate che anch'io ho un bias in quello che vi sto dicendo, questa cosa spesso non è esplicitata nel modo in cui Alex espone le sue teorie e i suoi commenti. Qua parlo sia in particolare delle live, nel corso questa cosa c'è un po' di meno, avendo un modo di comunicare molto diretto, di nuovo, essendo una persona molto carismatica quando lui dice qualcosa, difficilmente aggiunge la parte ipotetica, no? Quindi molto spesso invece di andare a creare un albero decisionale per la persona che sta ascoltando, che sta ricevendo la risposta, si crea questa autostrada dove la soluzione data sembra essere una. Ora, capisco che sia estremamente difficile dare dei consigli che siano sfumati e efficaci allo stesso tempo. Io forse cado nell'opposto spettro del modo di comunicare e do talmente tanti ipotetici che poi il mio modo di dare consigli diventa confusionario per chi mi sta ascoltando. Però, visto che il mio lavoro non è quello di vendere infocorsi, mi sento di dare questo consiglio, cioè cercare quantomeno di dare un po' più di opzioni quando si comunica e dire guarda, non ho abbastanza contesto per darti una soluzione certa, però di base se come penso A allora fai B, se C invece fai D, se E invece fai F, insomma, per farvi capire un po'. Quindi questo è un problema che vedo in tutte le persone che vendono corsi, è meno problematico con Alex Theory che con altri, sì, però comunque c'è e penso sia importante sottolinearlo. Quindi per tirarle le somme su questo primo corso di business planning, insomma, mi sembra un buon contenuto, solito, specie considerato che è gratis. diciamo che a un 18enne, 19enne, 20enne che vuole gettarsi nel mondo del business ma anche a un 30enne che però non ha mai fatto nulla in questo ambito consiglierei sicuramente di seguirlo perché appunto è gratis e credo ci siano informazioni interessanti quindi male sicuramente non. Passando poi al corso di marketing sostenuto da Frank Theory lo definirei un buon corso introduttivo ma che secondo me ha un problema. Quest'area per me è molto più difficile da giudicare in maniera oggettiva perché è dove comunque ho una buona parte della mia formazione quindi magari persone in chat sapranno anche condividere la loro esperienza. Quello che ho notato è che fa un buon lavoro nel condividere info di base sul marketing quindi anche lì lo consiglierei magari a un liceale o un universitario che si vuole approcciare al mondo che vuole capire di più che vuole una visione diversa da quella universitaria che vuole una visione un po' più pratica però parlando proprio di praticità se l'idea come viene detto nel corso è quella di darti otto ore con cui sei pronto poi a fare il marketing per il tuo prodotto allora forse avrei apprezzato anche delle tecniche o delle tattiche in più rispetto a quello che viene condiviso. Sono convinto che la strategia che le conoscenze di base siano più importanti dell'imparare tecniche e tattiche che sono molto più facili da apprendere che cambiano più rapidamente quindi mi sta bene per partire dai concetti di base penso che sia importante quindi questa scelta l'apprezzo però d'altro lato non so se una persona che si fa queste otto ore di corso poi effettivamente è in grado di andare a mettere le mani sul proprio business e generare lead o generare vendite perché manca un po' la parte pratica manca lui che si siede per gestire facebook ads e che ti spiega più o meno come settare una campagna come settare google ads adesso capisco che magari l'obiettivo non era questo di questo corso quindi quello che avrei fatto io personalmente è dire andate a seguire quest'altro corso magari non loro questo video youtube di due ore per capire come funzionano le campagne facebook le campagne ads perché si le fondamenta sono importanti però poi per applicarle ti devi andare a sporcare le mani e molto spesso ho notato le persone si bloccano proprio su questi temi anche un po' più tecnici quindi questa parte per me un po' mancava però tutto sommato corso interessante con gli stessi problemi di base che menzionavamo per il corso di Alex quindi non ci sono template o strutture facilmente replicabili adesso il macbook fa sta cosa del pollice in su che è odiosa vabbè probabilmente qualche fu favore in un corso di marketing gli ha detto che questa era una buona idea Frank forse è un po' meno carismatico rispetto a Alex ma comunque tiene bene la camera parla fluentemente si capisce bene quello che dice scrive su sta lavagna che si va bene beh la lavagna è utile è meglio lui che scrive la lavagna che non Alex che non scrive niente anche lì avere magari un supporto digitale avrebbe aiutato di più la comprensione di quello che viene detto nel corso la visione no specie perché là il corso io l'ho sfruttato da telefono penso che il corso gratuito sia visibile solo da telefono non sono riuscito a allungarmi dal web spero che almeno il corso a pagamento sia visibile dal web perché secondo me è una feature importantissima quella di poter seguire i corsi dal computer io i corsi importanti che ho fatto in vita mia l'ho sempre fatti da computer con il corso da un lato le note dall'altro appunti dall'altro e quello cambia completamente il modo di fruirne quindi questa un po' critica al lato mio non so se è stato un problema tecnico mio ma non sono riuscito a allungarmi dal computer questo per me già è un punto in meno il discorso dell'anacquamento con frank anche un po' si vede ma lui aggiunge alla componente fuffaguro ancora più spesso quello anti-università tra virgolette il loro modo di criticare l'università non è che mi vede molto distante ma un pochettino sì e a volte anche questo ripetere che l'università non ti dà le informazioni per diventare imprenditore ma ti dà le informazioni o ti serve se vuoi il certificato sì va bene è la tua opinione agree to disagree a volte a volte agree to agree anche però c'è una certa basta io sto qua per imparare il marketing non mi interessa sapere quanto di più sto imparando rispetto a quello che imparerei in un'aula universitaria è ormai un discorso un po' stagnante e generico cioè ci sono anche ormai università che riescono a a darti una formazione più pratica da quel punto di vista per quanto io abbia visto degli obbrobri incredibili ho fatto vari progetti con studenti di master di marketing che venivano in azienda e ci chiedevano di fare presentazioni per noi di fare progetti insieme ed erano osceni quindi sono abbastanza d'accordo però a un certo punto anche basta quindi le conclusioni per il corso di marketing sono abbastanza simili a quelle per il corso di business planning se è una materia per voi nuova comunque se non pensate di padroneggiare bene i concetti del marketing fatelo sono 8 ore è un corso gratuito mi sembra tempo ben speso tutto sommato prima di parlare della parte di pagamenti corsi a pagamento master mastermind vi parlo un attimo dell'app app che a me non piace sinceramente nel senso che almeno gestisce il fold meglio rispetto anche al learn che è un'altra app che prima o poi vorrò recensire perché mi fa imbestiaire che non funziona almeno qua si adatta bene però per esempio io ho il corso gratuito su questo account e vedete che quando apro dei corsi a cui non ho accesso in quanto utente gratuito non è che mi dice non puoi aprirlo perché non hai il piano o nulla di simile semplicemente qua è vuoto sembra un bug una persona magari non capisce che cosa perché non vede niente quindi questo diciamo prima cosa che dovrebbe essere in realtà facilmente sistemabile poi tutte le thumbnail dei corsi sono le stesse va bene quando aprite un episodio del corso cioè l'unica cosa che c'è è lui a schermo e poi qua c'è una descrizione di un paio di righe la possibilità di andare avanti e indietro e basta fondamentalmente quindi ci sono corsi che ho menzionato anche nella recensione di Thomas Makering tipo CXL che hanno tutta la trascrizione di quello che viene detto a schermo che magari appunto hanno tutti quanti i deliverables o le cose che puoi scaricare un po' di forma secondo me qui avrebbe aiutato specie perché ripeto io non sono riuscito a consultare questi video da desktop poi un paio di altri problemi tecnici ma insomma nulla di che trattandosi di un un corso magari darei la possibilità di continuare il video anche quando lo schermo è spento secondo me quello è un grande valore aggiunto per chi magari se lo vuole sentire tipo audiolibro tipo podcast non capisco perché non farlo non sia di youtube quindi non c'è l'upsell nel venderci il youtube premium ogni volta che io metto a per due poi cambio lezione devo nuovamente rimettere la lezione a per due so che è un first world problem e che soprattutto è un problema mio che guardo tutto a per due però sono fatto così anzi fosse per me vi chiederei di mettere anche i 2.5 però quello so che è controverso e niente però ecco tutto sommato l'app mi sembra mi sembra carina il logo è osceno però ok non è non è importante passiamo ora alla parte succosa del denaro quanti soldi ci vogliono spillà questi in realtà sono rimasto piacevolmente sorpreso nel senso che dal momento della registrazione non ho ricevuto email particolarmente aggressive da un punto di vista di marketing che cercavano di vendermi tutto a tutti i costi a prezzi scontati del 97% cioè comunicazione molto più pulita rispetto al solito rispetto ai vari fuffaguru che vendono infocorsi quindi punto in più per questo sono andato io addirittura a organizzare la chiamata con la persona responsabile per la vendita la chiamata è stata una chiamata piacevole non c'è stato nessun tipo di marketing aggressivo per vendermi nessuna fake scarcity ho fatto un esempio di progetto che volevo portare avanti facendo capire che non non era avviato che non era una persona con tanta esperienza nel marketing eccetera e non hanno provato a vendermi il prodotto più costoso hanno detto guarda secondo me non ti serve il mastermind ma puoi andare per il percorso master quindi anche da quel punto di vista mezzo punto in più lo do non so se darlo a Giorgia che ha fatto la parte di vendita o proprio all'organizzazione che ha deciso di farlo così ma se effettivamente Alex ha implementato i processi di cui parla questo mezzo punto dovrebbe andare dovrebbe andare a tutti l'offerta dei corsi in sé l'ho trovata interessante si parla comunque di 2000 euro che sì sicuramente per certi tipi di formazione non sono tanti però ecco io prendo spesso come riferimento CXL quando si parla di marketing che ha tantissimi corsi pratici che è un punto di riferimento nell'industria internazionale e che insomma io l'ho fatto 5-6 anni fa mi ha dato tantissimo aiuto nello sviluppo della mia carriera ricordo che sono affiliato di CXL non è che ci faccio i sordi penso che nessuno abbia usato il link di CXL perché non è questo il target di chi guarda questi video però lo dico per diciamo trasparenza un abbonamento annuale lì costa 1300 euro più o meno nel suo massimo poi se siete studenti insomma ci sono anche scholarship eccetera non ho visto il corso completo intero a pagamento però non so se c'è lo stesso tipo di valore sicuramente il valore aggiunto in quel caso è che anche la versione da 2000 euro vi permette di fare domande in privato a loro a parlare con loro quindi se vedete valore nel parlare direttamente con loro nel vostro business sicuramente sicuramente può avere senso fare questo investimento ecco magari in particolare per chi è nella loro industria cioè si vede che comunque Alex è uno che è infugnato infugnato male con tutto quello che ha a che fare con il mondo del suo business quindi cibo fitness palestre a quel punto io sarei contento di pagare per avere consulenza con lui e capire meglio come insomma navigare questi questi mondi quindi quello sicuramente può essere un punto a favore l'altro esempio che uso spesso è Reforge Reforge è veramente il top del top quando si parla di corsi per growth marketing product di nuovo tipi di persone diverse che usano Reforge rispetto a quelle che usano o che vogliono fare corsi di questo tipo spesso è pagato dall'azienda io ho sempre avuto pagato dall'azienda un po' come CXL però sto vedendo adesso in Reforge avete anche la possibilità di fare domande live nel corso che state eseguendo e fare un corso deep dive lì costa 2000 euro 2000 dollari quindi non siamo troppo lontani a livello di prezzo da queste istituzioni riconosciute a livello internazionale poi ripeto magari non parlate l'inglese allora a quel punto spendete i vostri primi 20 euro per un corso su Udemy che vi insegna l'inglese andate a parlare inglese ci sono 3000 app che vi permettono di farlo perché quella è la cosa in assoluto da fare magari vi interessa più l'approccio il modo di comunicare di Theory University va bene però magari anche tutte e due in quel caso ma perché no quindi per entrare più nel dettaglio il corso da 2000 euro all'anno include quelle che saranno 280 ore di corsi registrati live tutte le sere in cui potete fare delle domande durante la live in privato e poi queste 150 ore di live interattive in cui praticamente da quello che ho capito si vedranno i compiti i vari business plan degli studenti si farà la review in live e tutti gli altri studenti potranno imparare un po' da quello che viene condiviso quindi anche un format interessante che trova modo di dare valore oltre ai corsi perché come sappiamo il mondo dei corsi tra pirateria online e comunque la comoditizzazione delle informazioni sta diventando sempre meno interessante questo approccio live sicuramente può essere può essere un valore aggiunto il mastermind è fondamentalmente la stessa cosa più tre ore di consulenza specifica con loro due o uno dei due per mille euro in più questo punto mi ha fatto sorgere un po' di domande nel senso che non sono quello che di solito chiede ma se fai soldi con questo perché ti sei messo a fare quello insomma capisco il loro approccio e il loro modo di ragionare mi sembra una scelta un po' strana un po' questionabile quella di vendere queste tre ore di consulenza immaginando che ci siano tutti e due sono fondamentalmente sei ore di consulenza per mille euro aggiuntivi a pacchetti così piccoli anche di ore no? perché alla fine il problema principale delle consulenze è che te le devi preparare prima ti serve contesto poi dopo anche ci rifletti ti spezzano completamente il ritmo della giornata perché c'è il calendario spezzettato con tutte e varie consulenze quindi c'è sempre un costo nascosto dietro le consulenze è un motivo per cui i tanti preferiscono non fare consulenze one off con le persone di questo tipo ma preferiscono vendere pacchetti oppure fanno pagare tanto le consulenze in questo caso si parla di 150 175 euro l'ora per persona presente fa un po' strano fa un po' strano però magari poi per loro diventa anche un modo di vendere altre consulenze di trovare persone interessanti con cui collaborare quindi è un po' magari un rischio che si sono presi da quel punto di vista e va bene così io comprerò questo corso credo di no anche se sono molto curioso di vedere le lezioni il motivo per cui non l'ho comprato adesso per fare questo video è anche che le lezioni non sono tutte fuori da quello che hanno detto escono una due ore di lezione al giorno e fondamentalmente comprarlo per fare la recensione però con i corsi incompleti mi sarebbe sembrato un po' uno spreco quindi non lo so magari dovesse essere ancora disponibile in futuro contento di di comprarlo e dirvi effettivamente come sono i corsi a pagamento dovessi basarmi solo su questi due corsi che ho visto adesso forse sarei leggermente mi immagino chiaramente un Tommaso di cinque anni fa non un Tommaso con l'esperienza di adesso perché quello anche cambia la risposta però un Tommaso che non ha esperienza imprenditoriale che magari non conosce anche altre opzioni altre persone che non ha un network forte che può dargli una mano forse lo considererei come investimento non sono sicuro che lo comprerei però ci penserei un attimo forse una persona che lavora nel mondo delle palestre nel mondo food o che ha un business tipo ristorante in Italia che vuole scalare che magari già sta guadagnando dei soldi ma che sa di star lasciando dei soldi sul tavolo allora a quel punto la percentuale diventerebbe più alta mi sposterei sicuramente più sul sì però ripeto queste sono tutte riflessioni ipotetiche su quello che ho visto io adesso devo dire quando si è nella posizione in cui sono io cioè di recensire questi corsi questi infocorsi fa sempre molta paura consigliare l'acquisto di qualcosa perché dovessero loro di io non voglia rivelarsi poi truffaldini meschini o dovessero dire cagate all'interno dei corsi che io non posso verificare mi sentirei anche in colpa per chi ha comprato il corso quindi sto cercando di oltrepassare anche quest'altro bias che ho in qualità di autocertificato recensore di questo corso quindi ancora più dal solito non affidatevi solo su quello che vi dico per fare la vostra decisione consideratela una recensione sul trip advisor una recensione di tre stelle su cinque dai vi do tre stelle su cinque a questo corso vediamo e poi sulla base di questo decidete se andare a mangiare nel ristorante oppure no la cosa che mi fa anche stare leggermente più tranquillo è questa garanzia che loro dicono di avere anche lì non ho visto nessuno dire effettivamente di essere stato rimborsato magari perché nessuno ha chiesto rimborso chi lo sa loro dicono di avere questa possibilità di essere rimborsati nel momento in cui si compra il corso non ci farei completo affidamento diciamo nel momento in cui comprate però mi sembra di aver capito che anche nella sua esperienza nel mondo delle gallette Alex abbia mantenuto spesso questa promessa del rimborso è diventata un po' un suo trademark vi dico che magari c'è un po' più di affidabilità rispetto al guru che non ha altra reputazione da difendere ecco questo forse è un altro punto interessante una persona che ha delle palestre che ha dei business che stanno andando ha più da perdere rispetto a quello che vi vende corsi da Dubai e che non ha nient'altro quindi magari anche questo può essere un mezzo punto a favore e poi c'è da dire che lo stesso Big Luca mi rimborsò per un corso perché io non voletti comprare il corso dando la mia carta di identità però avevo già pagato quindi poi mi rimborsarono diciamo che se anche in questi casi ho ricevuto il rimborso mi aspetto di riceverlo potenzialmente anche da Alex e Frank Theory ammesso chiaramente che poi rispettiate le condizioni su cui concordate al momento dell'acquisto quindi io vi ringrazio per aver visto questo video come al solito la cosa importante secondo me di questo video sarà anche quella di leggere le recensioni delle persone sotto questo video se voi avete avuto l'opportunità di studiare da questi corsi o anche solo fare i corsi gratuiti sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate piacerebbe vedere i commenti di questo video come un po' il TripAdvisor di questo Theory University per scambiarci un po' di commenti e opinioni purtroppo è difficile verificare che abbiate fatto veramente il corso però insomma confido nella bontà e nella genuità di tutti quanti voi fate le cose che vi dicono sempre gli youtuber di fare scrivere mi piace campanellina e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao 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 a tutti Grazie a tutti.